Ciao ragazzi qui Marchettino e oggi mi trovo in garage per registrare il consueto video di fine anno Ormai è una tradizione del canale concludere l'anno incoronando quella che ha reputo essere l'auto dell'anno Si conclude un altro anno molto positivo, ricco di contenuti, test drive, avventure, il tutto condiviso insieme a voi E non smetterò mai di dirlo, se tutto ciò è possibile è grazie a voi ragazzi, grazie al vostro supporto e al vostro affetto che ricevo tutti i giorni E se non l'avete ancora fatto come sempre vi ricordo di mettere like al video e iscrivervi al canale Se l'avete già fatto cliccate anche sulla campanella per attivare tutte le notifiche E adesso ragazzi non perdiamoci in introduzioni troppo lunghe Vi ricordo che questa classifica prenderà le 10 migliori auto che ho provato quest'anno Non devono essere necessariamente ultimi modelli ma anche macchine un po' datate E macchina dopo macchina arrivando fino alla macchina dell'anno vi spiegherò perché ho deciso di mettere questi modelli nella classifica E adesso ragazzi direi partiamo dalla numero 10 E' stata una delle prime macchine provate quest'anno L'ho provata così per gioco, per scherzo, mi son detto chissà che magari mi piace e ne metto uno in garage Stiamo parlando della Porsche Cayenne prima serie Però come potete vedere non era un Cayenne proprio tutto di serie In premis aveva il cambio manuale, una vera e propria rarità sul Cayenne E poi era tutto preparato da offroad Una volta provata me ne sono innamorato, mi son detto chissà se Vanessa prova l'acquisto Sono passati un paio di mesi dalla realizzazione di quel video che poi ho comprato la mia Cayenne Turbo in Olanda Targhe che sono arrivate con un ritardo cosmico L'idea era quella già quest'anno di iniziare un progettino offroad sul Cayenne Ma avendola targata solamente un paio di settimane fa Ho come l'impressione che il progetto verrà sviluppato nel corso del 2024 E già vi anticipo che a gennaio farò lo scarico Iniziamo subito alla grande con i lavori E' una macchina che ha un rapporto qualità prezzo veramente pazzesco Ad oggi i Cayenne prima serie costano veramente poco e offrono veramente tanto Quindi ecco perché mi sento di mettere il Cayenne alla decima posizione E adesso ragazzi dalla Germania, adesso giochiamo in casa Anche quest'anno di prodotti talici ne ho provati Sono macchine che regalano sempre grandissime soddisfazioni Ed ecco perché non a posizione ho voluto inserire la 550 Maranello L'accoppiata di cambio manuale e motore 12 cilindri aspirato fa sempre sognare Combo che ormai sul mercato odierno è diventata sempre più rara Era una macchina che dieci anni fa te le tiravano dietro la schiena E oggi sta iniziando a diventare piuttosto cara per un buon motivo E adesso ragazzi ottava posizione Torniamo in Germania e rimaniamo sempre su quel magico numero di cilindri Cioè 12 Ma parliamo di una macchina completamente diversa La 550, un altro mondo Stiamo parlando della Mercedes Maybach SS80 Virgila Blau Penso sia una delle berline più particolari e uniche che abbia mai portato sul canale La cosiddetta cappuccino Configurazione che non piace a tutti Però una volta seduto nell'abitacolo Possibilmente sui sedili posteriori Praticamente è come viaggiare in prima classe Una figata, un tripudio di pelle, lusso, tecnologia Ogni viaggio su quella macchina è indimenticabile E il test drive non me lo dimenticherò Questo è poco ma sicuro E adesso ragazzi settima posizione Rimaniamo sempre lì fermi in Germania Come ogni anno le M sul canale non mancano mai Ma questa mi è piaciuta particolarmente Stiamo parlando dell'iconica M3 E46 CSL Dopo averla provata mi son detto tra meme Ma che deriva sta prendendo BMW? È stata anche una grande occasione provarla Perché è una macchina che sta iniziando a diventare piuttosto cara Da collezionismo Quindi chi ce l'ha tendenzialmente se la tiene stretta E la usa pochissime volte all'anno Fortunatamente sono riuscito a trovare un esemplare Le aspettative erano alte E non mi ha deluso affatto Quindi dire che il settimo posto è più che meritato E adesso ragazzi per la sesta classificata Torniamo in Italia Con lei ho passato una divertentissima giornata di traverso in una cava L'ho sporcata Mi sono sporcato Ma che ricordi Che emozioni al volante dell'huracan sterrato E dopo averci giocato una giornata intera Posso confermare che anche questo modello Reincarna perfettamente lo spirito La follia E il DNA di Lamborghini E poi stiamo parlando del canto del cigno L'ultimo modello con un 10 cilindri aspirato Mi viene un po' di malinconia pensarci Però penso che questo in futuro Sarà una Lamborghini che ci ricorderemo con grandissimo piacere E adesso ragazzi Quinta posizione Siamo a metà classifica Passiamo dai 10 cilindri al... Non cilindri Sì ragazzi C'è una macchina elettrica in questa classifica Voi starete pensando Marco sei pazzo? Cosa stai dicendo? Bene ragazzi Lasciatemi spiegare Perché secondo me La Tesla Model S Plaid Merita veramente tanto di essere qui a metà posizione Stiamo parlando di una macchina Che da quando l'ho provato I listini sono scesi ulteriormente Adesso costa 110.000 euro E con questa cifra Ci si porta a casa un berlinone Pieno di tecnologia Chiaramente utilizzabile tutti i giorni Con ben 1020 cavalli E uno 0200 Che è eguaglia la Ferrari SF90 E Bugatti Chiron Parliamo di prestazioni da Hypercar Solo che Tesla ti offre tutto questo pacchetto completo A 110.000 euro E' una macchina veramente incredibile ragazzi So che molti di voi sono dei trattori dell'elettrico Però vi auguro almeno una volta Di provare l'esperienza della Model S Plaid E' una macchina che vi lascerà semplicemente sbalorditi E adesso ragazzi dagli Stati Uniti Torniamo in territorio italico C'è sempre un pacco batterie Proabbinato ad un motore termico ad 8 cilindri Stiamo parlando della Ferrari SF90 Durante un viaggio in Germania Ho avuto l'occasione di provare L'SF90 di Antonio Capristo Macchina che è stata elaborata In primis con uno scarico completo Perché di sere obiettivamente è una macchina che non suona E poi sono stati aggiunti 100 cavalli Come se 1000 non fossero già abbastanza Non è una delle Ferrari più emozionanti Che ho abbia provato in vita mia Però l'insieme di tecnologia Performance Sfruttabilità In tutto questo complesso È una macchina che mi ha impressionato veramente tanto In Autobahn l'ho tirata con nonchalance Fino a più o meno 260-270 Poteva andare tanto oltre Però onestamente come prima esperienza Per me era già più che sufficiente E qui appunto mi chiedo Stiamo parlando di una Ferrari in produzione Con ben 1000 cavalli Da qui a 10 anni Ferrari quanto ancora si spingerà oltre con le performance Ogni volta ho come l'impressione Che si stia raggiungendo un limite In termini di performance Che si riescono a sfruttare E puntualmente Ferrari alza l'asticella E nel mondo delle supercar ibride Io penso che questa sia una delle migliori E adesso ragazzi ci siamo Zona podio Medaglia di bronzo È stata una delle prime macchine Che ho provato quest'anno E ragazzi stiamo parlando della Toyota GR86 Questa macchina è la dimostrazione Che ad oggi le case automobilistiche Se vogliono Possono continuare a fare macchine a trazione posteriore Con cambio manuale Motore aspirato E soprattutto estremamente divertenti alla guida Che dire Arigato cosa è rimasto Toyota E speriamo che almeno i JAP Continuino su questa onda Perché macchine come la GR86 Ormai stanno sparendo sul listino del nuovo E adesso ragazzi Torniamo in Germania Per la medaglia d'argento Quando l'ho provata in pista Mi son detto Non è possibile Ma cosa avete fatto qui? Stiamo parlando della nuova Porsche GT3 RS Aerodinamica attiva con DRS Assetto regolabile Premendo un semplice bottone sul volante È un'astronave ragazzi E io onestamente non so come Porsche Riuscirà a migliorare questo prodotto Con la futura generazione che verrà Per me questa è la macchina definitiva da pista Se andate in pista Spesso vedete macchine come GT3 e GT3 RS Perché obiettivamente Se volete una macchina da pista Affidabile Sfruttabile Perché no? Anche nel quotidiano Io penso che Porsche Riesca a creare il pacchetto migliore E con lei ragazzi Che macchina hanno fatto Io me la sogna la notte E adesso ragazzi Ci siamo Il momento di questo clou La regina La macchina dell'anno A chi la diamo questa medaglia d'oro? Beh La diamo ad una macchina Che in vita mia Non avrei mai pensato di guidare Perché obiettivamente Penso che ad oggi in Italia Ce ne sono tipo 3 o 4 E chi ce l'ha Se la tiene stretta E non la fa mai uscire dalle collezioni Stiamo parlando Della regina degli anni 2000 Ed è la Bugatti Veyron Io penso che questa Sia la macchina più importante Del primo decennio Del nuovo millennio E vi spiego perché Ingegneristicamente parlando È un capolavoro Ho avuto l'occasione Di vedere diversi documentari Su come è stata sviluppata In retroscena Le tante problematiche Legate nel sviluppare Una hypercar Da 1.1 cavalli Da oltre 400 km orari Al tempo stesso Affidabile E utilizzabile Tutti i giorni Eppure Ci sono riusciti ragazzi E al volante Le sensazioni sono indescrivibili Sembra di essere all'interno Di una cabina di volo Ogni volta che affondi Sul pedale del gas Senti questi 16 giganteschi Cilindri E 4 turbine Che ti incollano sui sedili La colonna sonora È molto particolare Non è un 12 cilindri Aspirato Ma ha un sound Tutto suo Unico Particolare Sembrano appunto Le turbine di un aereo A piena potenza Che sta per decollare Dalla pista di decollo Adesso abbiamo La Bugatti Chiron Che è una pesante Evoluzione Della Veyron Eppure quando Bugatti Presentò la Veyron Non fu come quando Presentarono la Chiron Perché con la Veyron Rupero gli schemi Crearono un prodotto Unico Con numeri folli Già 20 anni fa Parlavamo di oltre 400 km orari 1.1 cavalli 1 milione di euro di prezzo Ad oggi sono numeri Che ancora Lasciano veramente Sbalorditi Ci sono hypercar Nate nello stesso decennio Della Veyron Che ad oggi Abitualmente sono parecchio Surclassate In termini di performance Ma la Veyron Ad oggi È ancora attualissima È un progetto Semplicemente epocale E nella sua complessità La reputo estremamente Affascinante E unica nel suo genere E questo è quanto ragazzi Con questo video Si conclude Un meraviglioso 2023 E io Sono già carico Per l'anno che verrà Ragazzi Se vi è piaciuto questo video Mettete like Iscriviti al canale Se è ancora fatto E come sempre Grazie per la visione Ciao